ciao a tutti amici youtube benvenuti qua nella seconda puntata qui nella the old stream farm ragazzi allora ragazzoli siamo qua che abbiamo finito di arare questo campo qui intanto portiamo il mezzo il fiatino a lavorare l'altro campotto l'altro campotto e ne qualcuno ok allora ci mettiamo l'operaio perché qui oggi si sta fondata si inizia a lavorare del brutto raga si inizia a lavorare veramente del brutto allora questo lo mettiamo qua facciamo iniziare così quasi quasi sì vedi tu vai operaio lavora allora vediamo sti sassi ragazzi ci facciamo porta qui allora ho comprato ragazzo comprare non mi scordo allora già ci abbiamo il primo prestito fatto dalla banca ragazzi dove ho comprato mentre ho venduto il coltivatore comprato un erpice e un rullo in più ho comprato questa qui per dalla calce poi al 180 90 già messo un caricatore frontale e così così è meglio è meglio ci abbiamo qualcosa di principale allora qualcosa di principale allora in esso prendo annoleggio la raccogli sassi la prendiamo annoleggio la prendiamo annoleggio la prendiamo annoleggio perché tanto non ci serve ok la prendiamo annoleggio vai 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 eccoci se ne fa agganciare ok ok l'aggancia allora si piega Accendi con il D-King ragazzi Con il D-King Accogliamo i sassi Che motore ragazzi Se magari gli sei dritto Vi ringrazio io da solo Ok In più ho comprato altri due campi Ho comprato altri due campi Facciamo solo questi due campi Allora ho comprato Come vedete qui ho inviato lo prestito Ho comprato raga il lotto e il sette Dove Ovviamente il lotto lo agareremo Perché ci sta C'è il cotone Ci facciamo niente Il sette che c'è i girasoli Ci rilasciamo raga Il sette che c'è i girasoli Ci rilasciamo Ok Facciamo un giro che È testata Leviamo sti sassi Leviamo sti sassotti Ci leviamo sti sassi C'è un vincenno e basta C'è un vincenno e basta Vengo perché sti sassi Do li metto Allora qui c'è il passimo raga Perché lo lasciate sti sassi Quindi qui ci rilasciamo Un attimo Andiamo su qua Ok Che bestia Vedete che bestione Questo trattore The King Un capa Quindi adesso ci leviamo Sti sassetti C'è un vincenno C'è un vincenno Vincenno Allora ci prepariamo I terreni Giustamente Ci prepariamo I nostri terreni Per seminarli C'è un vincenno Questi sassi adesso Che ci faccio Questi sassi Io non saprei proprio Che faccio Dovremmo fare la calceviva Oppure ci rivediamo Oppure ci rivediamo E che sinceramente Ci faccio Ci faccio Ma sanno poco Cioè Non ne vale la pena Secondo me Sti sassi Secondo me Non ne vale la pena Però Se lo uniamo Perché ci faccio Pochissimo E' un vincenno Che faccio Che faccio Che faccio che modo ci potrei mettere sì, potrei fare la calce viva oppure li porto a vendere anche perchè quanto mi costerà lo anche però il silos se non gioco a stacaro potremmo metterlo quello della calce viva perchè alla fine la calce viva serve sempre ce la mettiamo veramente alla fine però un po' di calce un po' di calce ma sarebbe male allora aspetta faccio il giro da qua che viene male la curva adesso è male la curva la curva giù ci guardiamo saleo vai 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 sterza 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 giù Allora adesso ci prepariamo i cambi Raga Ok Allora andiamo da qua C'è il masto Un pezzetto qui C'è il masto Allora Vediamo un buon attimo quanto ci costa Prezzi fattorie con te No, produzioni Vediamo quanto ci costa La produzione dei calci 10.000 euro Però dove la metto 10.000 euro ok Sì va bene Però dove la metto Il problema è quella Dove la metto Potrei mettere qui Alla fine Da lì scarico Per caricare Carico da qua Invece da questo punto la metto così Mettiamoci Mettiamoci Vai Ok Allora andiamo a caricare altre Da altre Altri sassi Oh va a sacchietto No Io ho spenito Allora avriamo Allora e Chiavelli Vai Vai allora la 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 ok ok oh prima lo sportelli raga la 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 lavorazione è lunga però allora K l'hoppa Allora, non chiesto c'è il passo, ragazzi, perché almeno facciamo tutto bello coltivato. Naturalmente, staserie forse la faccio tutta a campo due, perché non c'è troppo bene, ma non è male. Allora, avanti. Allora, dietro. Allora, adesso io andrei a scaricare. Allora, andiamo a scaricare. Passo qui. Dove si è bassa, ma non mi ricordo. Passiamo qui. Questo carrello qui sotto è un bicciapero. Era qua. C'era qua. Ah, che è qui se passava? Allora, adesso scariciamo. Allora, scariciamo qui. Ok, vai. Ok, ragazzi. Allora, attiviamo sta produzione. Ah, anche in questo potrebbe essere stato lo mio. Allora, è pochissima. Ah, pochissima. Aspettiamo, adesso scarichiamo qui e poi vediamo perché è inutile che l'attiva adesso. un'altra cosa. Vediamo un po' quanto costa sto campo, ragazzi. Il 6. 45.000 euro. Quasi quasi lo compro. Dai, compriamolo, dai. Sviniamo i soldi, che ce ne frega. Allora, 45.000 euro. Ok. E questo campo che c'è, non c'è niente, non so. Non c'è niente, non c'è niente. C'è mezzo fertilizzato. Guarda, non c'è niente piantato. Qua c'è i sassi. È pieno di sassi. È stato arato. Non c'è bisogno di niente. Quindi c'è bastare i sassi, ce levo i sassi e via. Facci, facci. Ho visto questo qui. Ho visto questo qui. Ok, ragazzoli. Allora, io intanto mi faccio un po' di sassi qui. E niente, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanella, mi raccomando. Spolliciate, commentate. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao! 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 Ciao